Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti su Segnalazioni, la videorubrica che cerca di riportare a galla da quell'oceano di informazione e disinformazione che è il web, qualcosa di utile per evitare che la navigazione sia un naufragio. Scherzi a parte, volevo segnalarvi Librozza, un blog dedicato alla scrittura e non solo. Chiunque sia interessato allo storytelling, chiunque sia interessato soprattutto alla narrazione e quindi alla scrittura, scrittura intesa in senso lato, anche scrittura digitale, alla composizione di qualsiasi testo, documento, video, animazione con strumenti digitali, potrà trovare molti elementi interessanti. Ma vediamo cos'è Librozza. Librozza è un blog sulla scrittura realizzato e curato da Carmen La Terza, laureata in lettere, diplomata in pianoforte, che si occupa di tante cose. Si occupa di coaching elettorale, di ghostwriting, di self-publishing, editing e correzioni di bozze, quindi seguire tutti coloro che hanno un interesse a pubblicare, a promuovere le loro creazioni letterarie. Ma a noi non interessa per questo Librozza, ci interessa perché appunto una sezione di Librozza, un podcast, è dedicato proprio alla scrittura creativa. E qui troviamo molti articoli dove sono presenti interessanti elementi della narratologia, si parla di generi, del sistema dei personaggi, di come costruire un personaggio, dei punti di vista, della fabola, dell'intreccio e così via. Ai vari registri e stili, la composizione in sequenze di un testo narrativo, diciamo che si trovano interessanti risorse che possono essere utili a chi si occupa dal punto di vista didattico e formativo della narrazione. Vuoi per motivare gli studenti, vuoi per vari scopi pedagogici, la pedagogia narrativista, autobiografica, oppure nel senso dello storytelling più ampio, per cui possiamo, qualsiasi contenuto, problematica, disciplinare, interdisciplinare, proporla utilizzando le tecniche dello storytelling. Quindi mostro come trovare rapidamente ciò che può interessare, noi andiamo su podcast, lasciamo stare il self-publishing, andiamo su scrittura creativa e qui abbiamo una serie di articoli, finora sono sc, scrittura creativa, sono 48 articoli che possiamo consultare. Possiamo anche consultarli scendendo in basso, vedete, cliccando su archivio e qui avremo tutti gli articoli a nostra disposizione. Vedete, si va da come scrivere i dialoghi, a ruoli e funzioni dei personaggi, quindi sistema dei personaggi, sono articoli ben scritti, molto chiari, il tempo narrativo, lo storytelling, per esempio vi mostro come è strutturato un articolo, qui abbiamo il tempo narrativo, clicchiamo per leggere l'articolo completo, notiamo che è proprio un podcast, perché vedete qui abbiamo la fabola, il tempo del racconto, il tempo della storia, le anacronie, e così via, la fabola e l'intreccio, ovviamente, il ritmo della storia, sono strumenti molto interessanti sia per analizzare che per comporre un testo narrativo. Se torniamo indietro, vediamo che è disponibile anche la versione audio dell'articolo, aggiorno la pagina, vedete, cliccando qui parte la voce, questa è l'autrice, Carmela Terza, e possiamo ascoltare l'articolo. Possiamo anche utilizzare YouTube, perché c'è un canale YouTube con tutti i podcast di Librozza, basta scrivere Librozza YouTube, vedete, andiamo al canale, e poi sulla playlist, tra tutte le playlist che sono qui pubblicate, dedicate ai vari aspetti, self-publishing, eccetera, sceglieremo la scrittura creativa, vedete, si tratta di podcast, sono parecchi, tutti dedicati alla scrittura creativa, e sono poi gli articoli pubblicati sul blog. Spero che vi sia utile questa segnalazione, che possiate trovare interessante questo blog, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata.